Negli anni Di Karlovic diranno meraviglie personaggi come Cesar Luis Menotti e Luis Peggerman, CT dell'Argentina, ma all'inizio degli anni 90 a Rosario arriva uno che con quella città non c'entra proprio nulla, rappresenta la bocca di Buenos Aires e il calcio argentino nel mondo, ma in maniera diversa rispetto al rigore e all'ossessione che Rosario esprime. È Diego Armando Maradona, che per rimettersi in forma dopo le note disavventure accetta di giocare col nemico, col News All Boys. Il suo arrivo fa clamore, inevitabilmente, e qualcuno chiede in conferenza stampa, pensi di essere tu il più grande calciatore venuto a giocare a Rosario? Diego, a cui pure l'autostima non è mai mancata, risponde, ma che? Voi lo conoscete bene il più grande di Rosario? È Thomas Karlovic. A proposito, che fa il trince?